La pandemia ha notevolmente rallentato le opportunità di prevenzione e percorsi di cura per i tumori del seno. Oltre 2 milioni di donne non hanno potuto svolgere i regolari controlli e moltissime riceveranno una diagnosi in un stadio più avanzato e più difficile da curare. Per questo motivo il Comitato Abruzzo di Comen Italia, in seguito alle significative difficoltà determinate dal Covid-19 nell'ambito della prevenzione e degli screening oncologici mira a potenziare il programma nazionale itinerante di promozione della salute femminile sul territorio regionale. Nella giornata di oggi la caromana della prevenzione ha fatto tappa per la prima volta nella città di Teramo. Come Comen Italia siamo veramente felici che la città di Teramo abbia deciso di ospitare insieme alla Fondazione Ballone in collaborazione con la Caritas Diocesana questa opportunità di prevenzione per le donne della città. La Comen Italia è un'associazione che da oltre 20 anni si occupa di lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale. Da ottobre 2017 abbiamo avuto l'opportunità di portare su tutto il territorio questo progetto di prevenzione e tutela della salute femminile, appunto la carovana della prevenzione che in questi quattro anni ci ha dato l'opportunità di visitare oltre 100.000 donne nei contesti socio-economici più disagiati. La città di Teramo per il primo anno ospita questa carovana, questa giornata è molto importante per noi, cercheremo sicuramente di essere il più utile possibile al tessuto cittadino. Quanto è difficile organizzare un evento così importante in un momento così difficile? Difficilissimo dal punto di vista logistico, delle autorizzazioni, dei permessi, ma soprattutto difficile perché la carovana si inserisce in un contesto come quello della pandemia in cui in questi mesi le attività di prevenzione sono state messe un po' da parte. Tutto l'arco del 2020 sono stati oltre 2 milioni gli screening oncologici che si sono non potuti fare a causa del Covid e quindi come associazione, come in Italia e grazie a questa iniziativa stiamo cercando di mettere una piccola goccia per aiutare a recuperare queste liste di esami che sono completamente saltati e che hanno provocato nel solo 2020 più di 2.000 diagnosi di tumore al seno in più. Allora oggi avremo l'opportunità di visitare circa 70 donne grazie appunto alla collaborazione con il Comune e con la Caritas Diocesana.